Eccomi, buongiorno, benvenuto in un nuovo Vlogmas, riconoscerete la location, ogni tanto ve la faccio vedere. Sono in ufficio, però ho un attimino di tempo e giro un Vlogmas. Allora, ve lo dico sinceramente ragazzi, è del tutto improvvisato, non parlerò di makeup eccetera, è proprio un video improvvisato, ma che secondo me potrebbe essere di forte spunto, è un video di quelli un po' quando parliamo dei difetti, dell'ansia, della gestione, dello stress, sapete che ogni tanto sul canale tornano questi video. Allora, da cosa mi è venuta l'idea? Non so come avrò intitolato questo Vlogmas, e non so neanche che numero sarà perché mi sono portucchiata, portucchiata, che stai a di, portata un pochettino avanti, quindi adesso vediamo, vedrete che numero di Vlogmas è. Allora, ieri sera ero un po', mi bevevo la mia tisanina, era sera, tranquilla, Alessandro si guardava il mondiale e ho ascoltato un po' su Instagram le storie di Franci Pugliese, che sapete che vi nomino, per i capelli, il makeup, insomma, che la seguo. E ieri sera lei, scusate che nel mentre tengo sveglio il pc, e ieri sera lei ha fatto un po' di storie su Instagram, un po' belle corposette, sul tono polemico. E voi direte, ma di che cosa? Allora, la concezione che abbiamo noi ragazze barra donne, perché alla fine anche chi è ragazza poi sostanzialmente è una donna, ognuna di noi attraversa diverse fasi della propria vita, e ascoltavo queste storie, e lei stessa ha ammesso che erano polemiche, perché le ascoltavo con interesse perché è un tema che comunque interessa a tutte noi, è un tema che, volenti o nolenti, credo che nella vita di una ragazza barra donna arrivi presto o tardi. E quindi, e quindi, ho detto, ma sai che c'è? Propongo alle ragazze sul canale anche un po' la mia versione, La mia opinione a riguardo, un po' abbiamo toccato questo argomento in un vlog, credo di ottobre, a grandi linee potrebbe essere, sì, credo che fosse ottobre, proprio un vlog di quelli della domenica, come dire. Allora, la concezione che noi donne abbiamo, che, scusate, di come noi siamo viste nella società, no? La concezione di quello che è il percorso che una ragazza barra donna deve fare. Ora, c'è qualcosa di scritto? No. C'è qualche obbligo? No. L'unico obbligo che abbiamo è innanzitutto curare noi stesse, stare bene di salute, e sottolineo salute, e poi, ovviamente, avere un lavoro per vivere. Non vivere per lavorare, in teoria, si spera. Poi è ovvio che, a seconda di come una persona è, può attraversare momenti più o meno stressanti causa lavoro, ma questo credo che faccia un po' parte della vita in generale. Però, avere un lavoro ti porta a poter vivere, si spera avere un buon lavoro che ti permette di vivere bene, che ti permette di toglierti, magari, qualche sfizio, fare, magari, una vacanza all'anno, se sei più fortunato o due, insomma, cercare di avere, comunque, mi piace dire, una vita, per così dire, dignitosa, anche se, magari, abbiamo sotto gli occhi persone che hanno disponibilità economiche decisamente molto più elevate, e che, magari, anche noi, confrontandoci, magari, con chi ha più di noi, ci sentiamo piccoli, piccoli. Però, il punto che voglio dire io, è che, comunque, gli unici obblighi che, parlo per la sezione donne, è quello che è il mio punto di vista. Poi, è ovvio che potete scrivermi nei commenti, ci possiamo confrontare. Quello che una donna può fare, cioè, quello che una donna deve fare, è questo, in primis. Giusto? Ok. Sappiamo anche che, storicamente, il tutto si è modificato nel corso del tempo, che la storia ci insegna, che il menage era, che la donna, praticamente, magari, appena aveva l'età, che poteva lavorare, andava, magari, a lavorare in casa di famiglie benestanti, e quello era il suo lavoro. Oppure, una volta che era in età da matrimonio, e, storicamente, le ragazze si sposavano, veramente, molto, molto giovani, e il loro, come dire, il loro percorso doveva essere sposarsi, il loro percorso era sposarsi, gestire una casa, fare i figli, crescere i figli, fare la spesa, pulire casa, e non avere alcun tipo di, altra velleità. Ora, non vorrei che passasse il messaggio che io stia criticando chi sta a casa, gestisce una casa. Io sono anche quella persona che ritiene che la gestione di una casa, per la gestione di una casa, per una mamma, per una signora, per una persona che dedica la vita, la propria vita alla sua casa e alla sua famiglia, io l'ammiro tantissimo, ma veramente l'ammiro tantissimo, e dovrebbe essere predisposto, secondo me, proprio un riconoscimento economico per questo lavoro, perché anche quello è un lavoro. Però quello che voglio dire io è che non riusciamo a fare una distinzione. Cioè, se io chiedo aiuto, magari, alla signora delle pulizie che mi aiuta nella gestione della casa, perché non riesco a fare tutto come devo, sono una persona che non riesce a fare quello che in realtà dovrebbe fare perché sono donna. Perché la donna deve gestire la casa, deve pulire, deve fare la spesa e poi fare tutto il resto. Questa è una cosa che io non condivido, perché secondo me, esattamente come diceva Francesca ieri sera nelle sue storie, seguitela, Franci Pugliese, la trovate anche su YouTube, ma la conoscerete sicuramente, diceva io credo che chiedere aiuto sia il primo punto per dimostrare di essere una persona consapevole, di essere una persona che sa che ha tanti altri impegni ai quali star dietro, che si impegna, scusate la ripetizione, nella gestione di tutto, ma sa che non può arrivare dappertutto. E io ho un estremo rispetto, ad esempio, della signora che mi aiuta a casa. E non credo di dovermene vergognare se una volta alla settimana una signora mi aiuta nella gestione della casa. Non sono meno donna, non sono meno responsabile della casa, sono una persona che cerca, cerca, con tutti gli alti e bassi del caso, che contraddistinguono la vita di tutte noi, perché poi ci confrontiamo e molti di voi mi scrivono anche in privato, giovani, diversamente giovani, ogni ragazza ad ogni età, perché per me siamo tutte ragazze ad ogni età, da zero a cent'anni, questo è il mio punto di vista. Cioè, io non sono di meno se chiedo aiuto. Non lo sono. E vi dirò di più, se mi aiutasse, io sto pensando, per il 2023, di farle fare qualche ora in più per farla anche stirare. Pensate un po'. Sono criticabile per questo? Sono criticabile? Non credo. Non lo so se lo farò, perché bene o male sullo stiraggio cerco di tirarmelo dietro, come dico io, tra morti e feriti. Però se anche facessi questo, se anche le aumentassi qualche ora per aiutarmi a gestire anche magari lo stiraggio, sarei una persona da meno? Non credo. Perché se io donna decido di voler lavorare, di avere una vita normale e di seguire il flusso degli eventi anche a seconda di quello in cui ti porta la vita, sono una persona criticabile e un uomo barra ragazzo no? Perché? C'è un obbligo scritto da qualche parte? Anche quando ci sono delle coppie che seguono un determinato cliché? È un obbligo che è sempre la donna barra ragazza a doversi sacrificare? È sempre la donna che deve tirarsi indietro in qualche suo desiderio? Non credo. Però succede, succede sempre così. Perché? Perché dobbiamo essere sempre noi ad essere penalizzate? Dobbiamo essere sempre noi ad essere penalizzate nel momento in cui una persona decide di avere un bambino. Perché? Se una persona decide di avere un figlio, lo decide a prescindere da quella che è una... la sua persona. Perché prima di essere moglie, madre, si è prima di tutto una persona. una persona con delle proprie velleità, con dei propri desideri, anche professionali. Perché anche noi donne possiamo avere delle velleità professionali. Possiamo avere delle passioni. E per le più fortunate certe passioni possono diventare un lavoro. Sentirsi utili a fine giornata. Badate bene che ci si può sentire utili anche nella gestione di una casa, fare la casalinga, gestire la famiglia, con o senza figli. Perché non c'è scritto da nessuna parte che una persona debba per forza avere figli o debba per forza sposarsi. Questi sono stereotipi che ci trasciniamo da illo tempore. Sono stereotipi che sono belli, per carità, però non devono diventare un obbligo. Cioè, secondo me, ci sono determinate cose che nella vita di una coppia, nella vita di persone che decidono di stare insieme, se si arriva a quello è un percorso che la coppia fa nel quale nessuno deve interferire. Nessuno. A meno che la persona interessata, ragazza e ragazzo, la ragazza chiede aiuto, non aiuto, consiglio ad un'amica, alla madre, eccetera. Però credo che ci siano delle cose rispetto alle quali non bisogna superare una determinata soglia. è la persona interessata che può chiedere aiuto, consiglio. Allora sì che tu puoi esprimere una tua opinione, ma guarda, secondo me, ma mai pretendere. Qualsiasi persona tu sia nella vita di questo soggetto, parente o non parente, amico o non amico, conoscente, come vogliate chiamarlo. Io credo che ci siano determinate soglie che non debbano essere superate. Poi, questo stereotipo che ci trasciniamo, secondo me, è allucinante, ragazze. È veramente allucinante. Io condivido pienamente quanto ha condiviso nelle sue storie ieri sera Francesca. Lo trovo veritiero, lo trovo reale ed è allo stesso tempo bruttissimo che alla fine del 2022 noi siamo ancora qui a discutere, ad avere l'ansia, la donna media lavoratrice ha l'ansia, dice, ah, perché se dovesse arrivare un figlio non si sa come va il tuo lavoro. Però, allo stesso tempo, si parla che la natalità è calata, che le nascite sono calate, che si ha paura a mettere al mondo dei figli per la situazione che c'è. Quindi vedete che c'è una contraddizione in termini proprio cioè tra il dire e il fare. Qui proprio stiamo manco galleggiando, proprio annaspando come dire. E se io voglio avere, io donna, voglio avere una vita più o meno normale, continuando a, oltre a rispettare ovviamente i miei obblighi lavorativi e avere delle velleità professionali è importantissimo perché nel momento in cui una donna si sente svilita senza un obiettivo credetemi che vacilla anche tutto il resto. Coppia, famiglia, matrimonio, tutto. Perché se prima non c'è una soddisfazione personale l'altro non va avanti se invece una persona ha una forte soddisfazione personale nel gestire una casa e tutto quello che comporta la vita casalinga innanzitutto ha tutta la mia stima perché effettivamente ha tutta la mia stima però è una sua scelta una persona non deve essere portata obbligatoriamente a fare quello a causa delle scelte che volenti o nolenti nel ciclo della vita di una persona di una coppia può succedere ma non è che deve succedere è un po' diverso quindi ci tenevo a fare questo video perché queste storie di Francesca le ho ascoltate con estremo interesse e ho voluto dire la mia in questo senso perché ripeto credo che nella vita di ogni ragazza barra donna questo è un è un discorso che volenti o nolenti torna presto o tardi io ammiro tutte quelle persone tutte quelle ragazze donne che riescono a farsi scivolare addosso determinate cose legate a tutto questo discorso e niente ragazze e ragazzi insomma quelli che hanno ascoltato fatemi sapere che cosa ne pensate spero che questo video un po' fuori dal comune vi sia comunque piaciuto sapete che ogni tanto questi video tornano abbiamo parlato di alcune cose sempre i difetti l'ansia la gestione dello stress a random tornano spero di avervi dato un po' di supporto comunque perlomeno chiacchiericcio vediamola così vi aspetto nei commenti per sapere la vostra opinione ricordatevi di seguirmi anche su instagram dove mi trovate come c4kate lasciatemi anche un bel like di supporto ovviamente se questo video vi è stato di gradimento e noi ci vediamo domani con un nuovo vlogmas ciao a tutti